Alessio D'Andrea, un ricordo straordinario dell'Avellino, dal 2003 al 2007 ha vestito la maglia dei lupi ed oggi, ad anni di distanza, conserva ancora un amore viscerale per questi colori. Come piazza, come squadra, come città dovrebbe calcare altri palcoscenici. Purtroppo la triste realtà che ha portato l'Avellino in questa nuova situazione è chiara a tutti quanti. Spero con molta fiducia che torni nei campionati dove dovrebbe essere e il bene per la società e soprattutto per i tifosi è quello che la squadra metta la testa giusta per il campionato che sta affrontando. Le qualità ci sono, ottimi giocatori, però sono tutte altre realtà rispetto ai palcoscenici che ha sempre calcato la squadra. Ad Avellino ha trovato il successo, ma anche tanti amici, con un ricordo personale davvero speciale. Io ho lasciato, come si può dire, il cuore ad Avellino. Venivo da una piccola squadra di provincia come la Viterbese e sono stato catapultato in un'altra realtà. Con gli anni che sono passati ho scoperto grandi amicizie, ho scoperto il calcio che contava. Devo dire soltanto grazie a questa squadra. Nonché ho scoperto i miei testimoni di nozze come Simone Puleo e Raffaele Biancolino, persone con cui mi ci sento molto, molto frequentemente. Quindi io spero con tutto il cuore che l'Avellino si sbrighi a tornare da dove purtroppo è scesa quest'anno. Proprio ex della sfida di domenica, D'Andrea, nella stagione 2016-2017, ha vestito anche la maglia del Monterosi. Io sono arrivato al Monterosi in una realtà che era, tutti mi dicevano, una realtà di paese, che era una squadra molto piccola, un paese piccolino sulla Cassia. E invece quando sono arrivato ho trovato persone molto competenti, un presidente con tanta voglia di far bene, molto, molto ambizioso. Un consiglio accorato, quello che l'ex giocatore trasferisce ai Biancoverdi, i laziali, dice, non mollelanno nulla, sarà partita vera. Se potessi consigliare una cosa ai lupi è quella di affrontare questa gara veramente con il coltello tra i denti. e che sarà una squadra che non regala nulla, è una società ambiziosa. Il presidente, come dire, il presidente Capponi è una persona che stirrà molto l'ambiente, perché specialmente queste gare a lui gli piacciono, anche perché ha una grande cassa di risonanze ammediate con una partita del genere.